Direttore, a questo punto approfittiamo e le rubiamo anche noi qualche battuta e le chiediamo un bilancio, siamo quasi alla fine. Siamo a due terzi, finora è molto molto positivo, le critiche sono eccellenti, vedete voi che serate, anche se ora piove un pochino. Abbiamo avuto delle presenze straordinarie da Giullo ai fratelli Cohen, a Donna Tarta, a Wes Anderson, stasera tante star italiane. La stampa ci segue, devo dire, quasi all'unanimità, ne ho visti due su 120 di articoli non proprio caldi, ma insomma gli altri 118 sono tra i caldi e i caldissimi, ma soprattutto c'è un bellissimo pubblico e questo incoraggia tutti. Tra l'altro sentendo un po' le opinioni di chi è stato in sala a vedere i film, quindi proprio del pubblico, è premiata la selezione dei film fatte? Tutti dicono che i film sono belli, è la cosa che ci fa maggior piacere. Lei ha il suo preferito, ce lo confesso. Non lo posso dire, certo che ce l'ho, ma non ve lo dirò neanche sotto tortura. Allora l'ultimo giorno ci sarà la confessione. Non posso fare neanche quello, forse dopo, perché c'è anche un premio del pubblico, quindi non posso veramente influenzare nessuno, ma vi garantisco che ce n'è uno che amo più di altri. E della rassegna della Pixar, qual è il suo preferito? Beh, il mio preferito è gli Incredibili, però non è che non mi piaccia Monster Inc, è bellissimo pure quello, Finding Nemo, sono tutti bellissimi. È una retrospettiva meravigliosa, grazie. Grazie a voi, grazie, grazie.